E' da poco entrata in vigore la legge 165 2021, legge di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 127 che, come sappiamo, reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19. E' dunque opportuno valutare la normativa in vigore e soprattutto le novità intervenute con particolare riferimento al settore privato. Prima di tutto ricordo che l'obbligo previsto dalla norma è escluso per i soli soggetti esenti dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute. Arrivando invece alle novità, la prima da analizzare riguarda la consegna al datore di lavoro della certificazione verde. Il Governo ha disposto infatti che al fine di semplificare e di razionalizzare le verifiche del cosiddetto Green Pass, i lavoratori possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copria della propria certificazione verde. E' stato anche previsto che i lavoratori che consegnano la predetta certificazione per tutta la durata della relativa validità siano esonerati dal controllo da parte dei rispettivi datori di lavoro. Sul tema tengo a precisare che questa misura prevede una facoltà e non un obbligo di consegna per il lavoratore. Alla luce poi di quanto introdotto appare evidente che questa previsione rappresenta oggettivamente uno strumento destinato a facilitare i controlli prescritti alla norma in tutte le aziende del nostro Paese. Altra novità riguarda le aziende con meno di 15 dipendenti. Ferma restando infatti la disciplina secondo cui dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, la norma va subito a chiarire che i giorni di sospensione sono lavorativi. Si riscontra poi anche la modifica che consente di rinnovare più volte il contratto di sostituzione purché entro la fine dell'anno. E da ultimo viene anche chiarito che durante la sospensione il pendente mantiene il diritto al posto e non può subire conseguenze disciplinari. Altra tematica piuttosto importante è quella relativa alla scadenza delle certificazioni verdi in corso di prestazione lavorativa. Come noto sappiamo che i datori di lavoro devono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche che possono essere anche a campione e devono anche individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e delle contestazioni delle violazioni degli obblighi previsti dalla normativa che stiamo commentando. In questo ambito però si è riscontrata la difficoltà per le aziende di gestire i lavoratori a cui scadeva la validità del Green Pass durante l'orario di lavoro. Per risolvere questa criticità viene disposto che per i lavoratori dipendenti e pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dalla norma. Inoltre allo scopo di garantire dignità giuridica ad una facca apparsa sul sito del governo viene anche specificato che nei casi che ho appena descritto la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il proprio turno. Questa norma quindi è diretta a specificare che qualora la scadenza di un certificato verde Covid-19 di un dipendente si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto il medesimo possa rimanere sul luogo di lavoro ai soli fini del completamento della propria prestazione lavorativa. Ultima tematica rilevante è quella che riguarda i lavoratori somministrati. Infatti il legislatore legittimando nuovamente dal punto di vista giuridico quanto indicato dal governo attraverso una facca pubblicata sul proprio sito ha disposto che la verifica del rispetto delle prescrizioni normative resti in capo al solo utilizzatore mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni. In conclusione appare evidente ed è certamente condivisibile la volontà legislativa di semplificare le modalità di controllo e di chiarire alcuni aspetti che con il testo originariamente previsto dal decreto legge 127 avevano sollevato dubbi e criticità e che avevano quindi complicato di non poco l'ordinaria attività all'interno delle aziende italiane.